Grazie, Presidente. Lo scorso 28 marzo, attorno alle 13, presso gli uffici della polizia di frontiera dell'aeroporto Leonardo da Vinci, l'agente Giuseppe Filosa, con un tempestivo intervento, è riuscito a mettere in sicurezza un uomo che tentava il suicidio. Un atto eroico di un agente di polizia in borghese che ha salvato una vita umana. Voglio lanciare a lui i miei ringraziamenti, a Giuseppe Filosa e a tutti gli agenti della polizia di Stato della frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, a tutte le forze dell'ordine che tutti i giorni in un aeroporto così importante compiano un semplice dovere, quello di assistere i passeggeri, i lavoratori, ma soprattutto le persone che hanno difficoltà, perché in aeroporto ci sono moltissime persone che vivono un disagio e hanno preso l'aeroporto Leonardo da Vinci come la loro casa. Queste persone sono assistite non solo dai dipendenti, ma anche dagli agenti di polizia. A loro va il mio ringraziamento. Grazie. Grazie.